Io richiamo solo il riferimento legislativo, cioè il DL 293 del 16 maggio del 94, l'articolo 3 parla proprio della prorogazio degli organi amministrativi e quindi vi comprese anche le società partecipate. Questi organi amministrativi possono durante la prorogazio occuparsi o di ordinare l'amministrazione oppure di aspetti urgenti o indifferibili. Quindi quando si parla della manovra dei 20 miliardi per quest'anno e di 20 miliardi per l'anno prossimo siamo proprio in urgenza, anche perché la stessa urgenza è richiamata tra le considerazioni del Presidente della Repubblica in testa al decreto. Quindi noi siamo fermamente convinti che questo Consiglio di amministrazione possa tranquillamente procedere in tutte le operazioni a cui la Cassa Depositi di Prezzi è chiamata, procedere nello svolgere tutte le attività in quanto ha la legittimazione, lo può fare perché la legge lo prevede. In più noi speravamo che con il nostro ringresso in Parlamento qualcosa in qualche modo cambiasse, che ci fosse un po' più di trasparenza, un po' più di apertura nel condividere delle scelte. Invece ci troviamo con delle nomine non condivise col Parlamento, è stato informato il Parlamento come se fossimo dei normali cittadini e a noi sta anche bene, però avremmo preferito che magari se ne fosse parlato anche un po' in aula della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dei Cassa Depositi di Prestiti. Io non avrei in realtà la raggiungere.